Mio Giorgio aveva questa passione di scrivere poesie, di far cantare le persone, scrivere canzone, anche all'epoca di Parizio. E lui che dice che si è fatto il matrimonio e ha fatto il fotografo, non è vero, perché andavo a casa di mio zio Luigi e ci mangiavo, diciamo, tra Nicoletta e Anamici. Lui conosceva mio zio Luigi, ma al di là del fatto che faceva il camolista, mio zio Luigi, con lui non è che faceva il camolista, scriveva le canzone, andavo a casa con questa passione di scrivere le canzone. C'è un danno che ha collaborato anche lui con D'Agostino e con lui che hanno messo tutti e tre assieme questa canzone. Lui dice che il Napoli era un circuito chiuso, ma se lui cantava questo degrado, già nel mondo di questo spettacolo, cioè il degrado, viveva di questo degrado, perché questa musica è degrado. È normale che vieni circondata dal degrado, perché non canti il degrado. Frequentava mio zio Luigi, perché mio zio Luigi gli piacevano, ma sappiamo tutti quanti che scrive canzoni. Sei diplomata alla scuola di Movermà che adesso non è una convenzione, c'è sempre questa cosa che gli è sempre piaciuta, di fare questo hobby, come lo vuoi chiamare. Non è vero che si faceva solo le fotografie e non sapeva chi fossero. Venivo, se mangiavo, io stavo anche io. Quando andavo a trovare mio zio, mi trovavo a vestire l'avvocato a Cerno, c'è stata un gizzo d'Alessio, c'è stata un gizzo d'Alessio, c'è stata un gizzo d'Alessio. E quasi tutte le sere, perché mio zio ci mettava volato, essendo agli arresti domiciliari, ma ci mettava volato con 40 azioni. E da lì, la notte, poi volta la notte, si mettevano a scrivere le canzoni, perché avevano pure creato un piccolo gizzo d'incisione. Siamo negli anni 90, mio zio era agli arresti domiciliari, prima che si costituisse, era agli arresti domiciliari e veniva dall'Alessio e si scriveva le canzoni. Magari avessero i ragazzi la cultura di Jack Buckham, Pat Metini. Poi Nino D'Angelo è cresciuto musicalmente, a differenza di D'Alessio. Nino D'Angelo è sempre suonato con Pini presto. Pino Daniele, quando si è sciolta, porta il gruppo, ha suonato quegli Spirochira, ha suonato con Pat Metini, ha fatto una cultura su una crescita sua personale. Ma D'Alessio mi piace un'altra, ma che musica fa D'Alessio? Che mi fu chiesto, adesso non mi ricordo a me, mi fu chiesto qualcosa su D'Alessio e mi disse che veniva a casa di Pio Gino per scrivere le canzoni. Ma lo sto dicendo a te, uguale, io l'ho detto anche al magistrato. Perché non aveva nemmeno i soldi per comprasti da vestire? Quando andava ai concerti, si investiva con i soldi per comprasti da mio zio. Maradona è andata all'intervista con Maurizio Costanza, l'ha detto molto tranquillamente, che si conosceva con mio zio Cagno. Non vedo quale, perché deve marginare mio zio, come dire che non lo conosceva. C'è stato male dire che conosceva Luigi Giuliano. Però non c'è niente a che vedere con quello che lo faceva, al di là delle cazzucche. E c'è rimasto un po' male il mio zio, però lascia libera le persone di dire anche le bugie. Il mio zio Luigi non l'ha mai messo sotto tocchio perché doveva mettere una canzone, una parola, una minacciata. Per mettere la parola. Si sono trovati lì, mi è sempre piaciuto. Che ne ha messo due lumi di parole, e che ne ha messo cinque da lessi, e che ne ha messo dieci da costruire. Tanto è vero che prende i diritti d'autore, che si regano i diritti d'autore. Aviva Napoli il programma di Mec Buongiorno, che lo siamo rivedicati, quando nessuno lo conosceva. E Sabani se l'è portato con sé. Quindi questo circolo vizioso che lui parla è un po' da per tutto il mondo dello spettacolo. Però tengo sempre a precisare che io non sto dicendo questo per dire che lei sei un amortista. Assolutamente. Però non ci so il fatto che ti cese un amortista, perché al di là del camorista, si frequentava con una persona Luigi Giuliano. Ed è mio zio. Non c'è niente di male a dire la verità, perché lui non aveva fatto niente di male frequentando il mio zio.